Salve a tutti, sono Viviana Fabozzi e oggi vi presento un nuovo corso della Federazione Italiana Fitness per il settore Fitness Group, il corso di Baby Fitness realizzato in collaborazione con una nuova docente del settore del Fitness Group musicale, Melissa Roda. Come potete vedere diversi saranno gli attrezzi perché l'elemento importante e sostanziale di questo allenamento per i bambini dai 5 ai 10 anni sarà il gioco, la componente del gioco, quindi palle come la fitball, palle più piccole come la softball, piccolissimi attrezzi con un lieve sovraccarico come i manubri, gli elastici utilizzati anche sotto forma di nastro e palline anche più piccole per la propria scettibilità, la sensibilizzazione del lavoro dei bambini saranno elementi predominanti di questi protocolli a gioco. La grande motivazione che ci ha portati oggi a presentare anche nel settore Fitness un protocollo di lavoro esclusivo per i bambini, appunto il Baby Fitness, riguarda la possibilità di utilizzare un target enorme di utenza, appunto la Baby Utenza, che a sua volta potrebbe ricreare delle new entry in quelli che sono i genitori, quindi le mamme e i papà che fungono da accompagnatori. Un obiettivo quindi di business enorme per il quale vi proporremo dei protocolli di lavoro per i bambini che potrebbero andare in contemporanea ad un lavoro con i genitori o addirittura un protocollo di lavoro a coppia, genitore e bambino, per poter creare un elemento funzionale che migliori la consapevolezza di sé, la consapevolezza dei propri figli e che aumenti la possibilità di ridurre il rischio di posture scorrette nell'età poi adulta. Un altro motivo che ci ha indotti a realizzare un programma di lavoro esclusivo per i bambini è proprio legato al numero di ore sempre più ridotto che nelle scuole attualmente è dedicato all'educazione fisica. Quindi noi potremmo essere noi istruttori del settore fitness dei promotori per queste attività che dovrebbero essere enormemente educative appunto nell'età infantile e adolescenziale. Quindi non mi resta che invitarvi tutti, personal trainer, istruttori di fitness, istruttori di fitness group, istruttori del settore olistico, ad iscrivervi a questo nuovo entusiasmante e divertente corso per poter arricchirvi di nuove tecniche di allenamento per il target dei bambini. La Federazione Italiana Fitness vi aspetta quindi in tutte le date della sua programmazione estiva, autunnale ed invernale che potrete trovare sul nostro sito ufficiale. Un grazie da parte della Federazione Italiana Fitness, nella persona di Viviana Fabozzi e di Melissa Roda, momentaneamente non presente con me.